ciao creatura io sono eca di splendente e benvenuta o bentornata nel regno di cosa è ASMA ciao creatura ecco ti finalmente per questo nuovo make up allora vieni andiamo insieme alla festa di halloween hai scelto finalmente che sono mesi che mi mandi tiktok di video idee di make up hai scelto finalmente che cosa vuoi essere in questa magica notte vabbè è solo una festa lo so però vabbè prima di halloween vabbè ma è una festa tema halloween ci sta che sia ma insomma che devi sempre rovinarmi la magia si è una festa prima di halloween ma halloween per me tutto l'anno è halloween quindi tutta magica notte tutte le notti e e vampiro ma che ma ci siamo mandati cioè saranno tre mesi che ci mandiamo tiktok con make up e al fin è scelto vampiro che banalità no non sono ho fatto solo le labbra ma sono una tipo creatura di frankenstein è molto più originale dai del vampiro vampiro make up vampiro poi quello che hai scelto tu così glam praticamente te lo potresti fare sempre sembra un classico make up gotico cioè io ci vado tranquillamente fuori a fare la spesa con quello ma sei un po' banalotta e posso posso sono soffesa però sei un pochetto banalotta e adesso io devo pensarci io ho già tanto che sono riuscito a farmi questo e io devo pensare anche al tuo make up beh insomma vabbè dai facciamo vampiro se non non te ne piace nessun altro ma tipo come ti vesti ah quindi è proprio basic un vampiro basic ok facciamo sto make up basic e e va bene lo stesso cioè praticamente sembra rosso io in maschera ma vabbè e sposa cadavere è sempre quello ma poi sposa cadavere se ci vai coi capelli cioè dovresti avere i capelli blu non hai neanche la parrucca se ci fai poi vestita normale sposa cadavere cos'è ah guarda che sposa cadavere poi devo farti la base azzurra eh eh no allora no eh allora cioè non ti va bene niente eh vabbè allora facciamo vampiro e basta sto guardandomi intorno perché non trovo come al solito che non trovo mai niente non trovo il fondotinta che avevo un po' lanciato così sul letto ops aspetta l'ho trovato allora ehm io finché cercavo il fondotinta ho pensato ti ti piallo la faccia eh tipo proprio uniforme palle da cadaverica non ti faccio blush ti faccio una specie di contouring che ti faccia così tipo no proprio un po' zombesca però perché vampiri sono sempre con tipo le mascelle tutte no esatto con la faccia piallata e e poi eh niente cute eh no vampiro glamour ma lo vuoi glitterato come twilight no ti prego io mi rifiuto di farti questa cosa no no io non ti metto i glitter senti halloween cioè allora andiamo di compromessi posso anche metterti glitter per quelli però tipo olografici colore freddo potrei anche accettarlo però mi fai fare come voglio io cioè tipo cadaverico con un tocco così no sense di glitter se vuoi ok bene siamo d'accordo stiamo uscitoni del rosso potrei dirti eh che eh non ho rosso carminio rosso magenta è glamour però non ne ho altri va bene va bene allora lo facciamo così benissimo allora dato che tanto tu non hai eh la carnagione cadaverica che io io normalmente uso la questo f1 che è proprio la tonalità più chiara per te va bene eh ah si gucci 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 fa gucci 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 tieni ce ne serve tanto perché tu ragazzi sei anche bronzata creatura ancora non ti è andata via la bronzatura ma te lo credo c'è sempre il sole piove una volta ogni età insomma quindi devo abbondare con fondotinta dopo lo andiamo a spalmare ok adesso chiudi gli occhi perché te lo metto anche sugli occhi non ti sto a mettere la base sugli occhi ti facciamo tutto fidati di me chiudi gli occhi allora se vuoi ti trucchi da solo stai sentando esperta se no non lo chiedevi a me vabbè io ho un cassetto di make up però se vuoi te lo lascio ti arrangi allora chiudi gli occhi e fidati è vero è vero mi sono dimenticata di metterti questa vabbè senti ti spruzzo random della base così ottimo tutto dentro agli occhi c'è ti ho accecata ti ho accecata vediamo no dai se riesci a sopravvivere bene ok ma si pastrocchiamo chissene fra eh cioè volevo dire ma no va bene lo stesso ma sei piallata comunque perché questo fondotinta è super top adoro faccio il mento e poi ho finito senti com'è bello cremoso con la base spruzzata dopo eh mamma mia secondo me andrebbe fatto così sempre sono gli altri che sbagliano sono gli altri che sbagliano ok allora adesso 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 ah si avevamo detto sai che sono un po' spadata vabbè dai ma solo oggi sempre io ma solo oggi perché sono un po' stanca si si cosa avevamo detto adesso che facevamo ah ok ok giusto il contouring ho dimenticato il pennello del contouring però ho quello del blush ma va bene lo stesso allora io non ho prodotti per fare il contouring di un colore che vorrei tipo un grigio così quindi diciamo l'ombretto ma si va bene lo stesso ma si ma si vitati allora andiamo con un grigio non ho neanche il grigio facciamo nero un po' sfumato va bene ma fidati adesso riusciamo non ti preoccupare ok è masterclass palette ma non è vero che uso sempre le soliste due forse si vabbè ma questa c'ho ma ne ho un sacco altre vabbè è che è che stai calmino allora allora adesso direi che potresti fare così io seguo le linee naturali dei tuoi zigomi e così andiamo a creare questa cosa di sì che un po' che ti renderà più scavata il viso più scavato no? più vampiresco i bambini non tutti sti zigomi power sì ok ma ce l'ha mi è venuto un flash ma ce l'ha le le zanne io le ho prese ce l'ho io che non le uso perché sono una creatura di Frankenstein però volendo io ce l'ho però quelle che ho preso io le ho preso su Amazon e tra il consiglio ti lascio il link in descrizione non è un placement cioè e perché praticamente le ho prese tempo fa mi sono trovata bene hanno dentro tipo delle palline che te le farei vedere ma non so dove le ho messe comunque ci sono queste palline che tu le metti in acqua calda e diventano trasparenti si uniscono diventano come una una pappetta e le inserisci dentro al al dente no la zanna esatto poi premi sul tuo tuccanino e lo lasci lì che si raffreddi all'oggetto d'acqua calda non mi ricordo comunque premi e lasci lì qualche minuto si raffredda e prende la forma poi si stacca e dai praticamente l'impronta dopo non c'è non è come la pasta quella non è come la pasta per la dentiera che la devi togliere e rimettere invece quello lì c'è proprio lo stampo e va a incastro col tuo canino è fantastico poi se ti riesce male perché magari io l'ho fatto due o tre volte perché non mi riuscivo mai bene ma non capisco perché di solito mi riesce tutto subito e lo togli e lo puoi rifare capito però basta ammorbidirlo con un po' di calore acqua tipica così però mi pare che non ci puoi mangiare no credo di no perché forse hanno paura che te lingo io non lo so in teoria sono salde però è meglio non mangiarci e boh penso sia un materiale che puoi tenere in bocca altrimenti non l'avrebbero venduto o no non lo so sai onestamente le ho usate sì però io ho un colore di denti naturale che è color avorio che tra l'altro se io fossi un rinoceronte mi avrebbero già ucciso per questo ma sarei molto sarei stata abbracconata per questo e non lo so se si può dire bracconata o non importa beh intanto fammi direi così ok mi raccomando così bravo bella 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 sì dà già l'idea un po' del vampiro sì del cadaverico un po' così aspetta fammi sistemare qualcosina qui sugli zigomi e anche di qua ok adesso va bene allora direi che ci siamo allora potremmo fare un po' anche gli occhi scappati un po' a avere due se non rompere ok forse dovremmo ricominciare però allora sì farei allora facciamo così che ti faccio un po' iniettati di sangue tipo un po' scavati con il nero ma anche un po' di rosso perché abbiamo detto se non ricordo male che doveva essere un make up così un po' sui toni del rosso giusto ok allora facciamo facciamo un video che avevo visto un po' così glam vampiresco dei tra i cento che mi ha mandato e faceva una specie di base rossa ho questi c'ho però non ce l'ho un rosso carminio ricordo e vabbè è come questi facciamo una base così però questo questo qui può andare bene ok quindi chiudi uno dei due occhi uno prima uno poi l'altro facciamo quella base lì e poi facciamo di là ok e poi facciamo cioè facciamo faccio perché te non devi fare niente stai ferma e faccio un eyeliner non solo un eyeliner c'è geloma non so dove l'ho messo e vabbè e allora un po' sfumato tipo smucchiai mi pare che si chiama mi ricordo comunque vabbè e sta passando un astronave non è un astronave questo è un treno vabbè sembra un astronave comunque facciamo un po' di smucchiai tipo nero no ok e basta qua vuoi tipo le punte degli occhi e io non posso farmelo perché ho la cartellata ti lo faccio a te è bello è un bel effetto tipo tipnotizzo con i miei con la mia magia vampirisca vabbè chiudi l'occhio sono a test ronfio ok l'eyeliner abbiamo detto non ci piace ah no si che non lo trovo vabbè e poi abbiamo detto i glitter la bocca te la faccio semplicemente rossa ti potrei fare quel contorno la nero però non so dove ho messo la matita vabbè senti facciamola per la rossa intanto questo è un po' sporco anche è un po' sporco di nero perché forse l'avevo usato come come un preto sai però non sono sicura non mi ricordo ehm si sai che io ho sempre la testa un po' no sempre ogni tanto la testa tra le nuvole ma cioè ogni tanto non sempre no ma mi sono bagliato prima volevo dire sempre ma non volevo dire sempre ok ok allora stai ferma con la bocca però non fammi la bocca ha poco di sedere di gallina allora fai stai normale così rilassata si non troppo rilassata perché è avuto questo effetto soda ma rilassata non so com'è altro spiegato vabbè come quando te lo metti tu ok ok vai ce lo possiamo fare è bello cremoso senti vabbè che con queste labbra qua non c'è bisogno di metterci tante cose sono già bellissime così già no e me la cavo sempre se vuoi te lo posso fare una sfumatura nera intorno oppure ti posso un po' spavocchiare qua con la matitona lipstick e facciamo finta che è sangue che appena ha bevuto la tua vittima se vuoi penso ci vado a prendere una cosa che volevo farti vedere stavo dimenticando i glitter aspetta ho questi qua questi qua non so se si vedono perché sono un po' tipo strani oppachi non so aiuto le ho anche io addosso ma non si vedono questi qua guarda fanno un po' twilight secondo me allora li mettiamo un po' sui sulla punta del naso qua qua sopra poi sugli sigomi ovviamente li vuoi anche qua va bene ok allora punta del naso poi qua le ho messi io le ho messi prima che madonna sbatto sempre dappertutto le metti qua sigomi aspetta che ne prendiamo ancora poi qua arcata sopra ciliale e mettiamo anche qua sopra le labbra ok perfetto non lo so sai non capisco non capisco se è uno specchio perché è tutto opaco ma non so se c'è non so se c'è qualcosa che copre tipo qui ma che ne so vabbè secondo me non è uno specchio se a volte hanno una pellicola sopra protettiva ma qua mi pare che non ci sia non lo so dopo guarderò con gli occhiali allora lo volevo farti vedere questa questa penna non c'entra niente non c'entra niente però volevo fartela vedere ah te l'avevo già fatta vedere ma sei sicura ma quando secondo me io non mi ricordo non mi ricordo di averte mostrato questa penna qui ma tanto tempo fa onestamente veramente cioè davvero non per che boh ma cioè tipo ma in che occasione boh se ti ricordi aiuto mi muoio a zero proprio ma solo oggi perché sono stanca ah pensa a te vabbè niente io ci devo far dire una cosa ma poi tu in realtà l'avevi vista già da mille anni benissimo ottimo no no perché mi piace il suono che fa melodioso sono palline di plastica che sbattono l'una con l'altra sarebbe ma è meno che cosa dici che sono strano da dire vabbè si può essere può essere strano in questo libro chi se ne frega potremmo potremmo abbinarlo vabbè vabbè poi dopo prima passando a prendere questa ho visto questo smalto qua secondo me ti starebbe bene se vuoi te lo metto è proprio rosso sangue rosso vampiresco guarda che bello aspetta aspetta che o no goccia l'apertutto ok guarda che bello rosso che odore mi sto soffocando te lo metto allora metti metti ah no allora aspetta possiamo fare ok poi c'è lì sui libri appoggia su quei libri lì la mano così ok è smalto normale quindi poi devi aspettare che si asciughi si boh non lo so ho visto delle persone che mettevano tipo le mani dentro all'acqua fredda ma non so quanto può funzionare onestamente boh io ogni volta che lo metto non capisco perché mi si ruinano subito beh si effettivamente sbatto poi la mano ovunque oppure boh non lo so a volte me la metto la sera poi vado a dormire quando mi restano tipo i segni delle coperte oppure oppure non lo so vado a farmi una doccia bella potente poi si tiro via e vabbè o se a volte succede ma non sempre cioè a volte perché sono stanca così tipo oggi vabbè dai te lo metto bello che bel colore che bello ci sta da dio ecco c'è sta sta un sacco meggiato con il rossetto secondo me ma sai che si va proprio bene a stenderlo con questo pennellino qua che è bello largo si basta una passata e è a posto davvero mamma mia oh che marca è non lo so Argan Oil Formula ma dai non mi è accorto Color Therapy oh me la mi ha regalata non mi ricordo neanche chi cioè vabbè ti credo qualche creatura beh creatura umana credo non so cioè non fai delle domande troppo specifiche vabbè comunque sì potrei effettivamente spruzzarti un po' di fissativo perché l'avevo preso da Action però non mi ricordo dove l'ho messo onestamente vabbè dopo prima di andare via lo cerco se lo trovo se lo metto è ipnotico questo suono mi piace troppo è vero sai è vero potrei fare un video di whispering con questo suono chit chat ecco stiamo aspettando ah sì è vero si deve asciugare lo smalto ma che ora è la festa perché io non me lo ricordo vabbè io ho sbadata vabbè ma oggi solo perché sono stanca e ah cavolo non manca tanto allora forse non è stata una così grande buona idea mettere lo smalto beh speriamo adesso si rovina lo toglieremo con l'acetone che ce l'ho da qualche parte in bagno adesso non mi ricordo ma dopo lo cerchiamo se serve lo cerchiamo solo se serve non sto a perdere il tempo a cercarlo se non serve ovvio ovvio ma poi i capelli come hai pensato a che abbonciatura ti vuoi fare? a me secondo me da vampiro potrebbe stare bene anche solo ai presenti poi giuffi davanti dei tirati indietro semplicemente magari con qualche qualche forgina carina oppure quelle forgine che non si vedono anche un elastichino di quelli trasparenti o se c'è rai scuro che copra che non si vede insomma non mi ricordo cosa mi ha odiati è perché oggi sono proprio stanca sì sono stanchissima oggi comunque rimani pieni di glitter per colpa tua hai voluto fare hai voluto fare il vampiro twilight luminoso che è nata o se ci sta è venuto abbastanza bene penso non lo so poi tu me lo farai sapere nei commenti come tu mi hai macchinato mi sono fissata con il macchinato vabbè comunque non so quanto durerò la festa perché sono davvero molto stanca molto stanca oggi sì infatti per quello che sembro un po' rincoglionita ma verrà perché sono stanca io sempre così ma no ma cosa stai dicendo non è vero ma no è solo oggi che sono molto stanca allora se vuoi ti faccio l'acconciatura visto che devi asciugarti ancora lo smalto secondo me sì è semplice solo questi ciuffi davanti li andiamo a a spostare dietro sembra un po' un vampiro mi viene in mente quel vampiro di baffi che porca miseria mi soffugge il nome in questo momento trusilla se non ricordo male aveva quella pettina attura lì un po' ottocentesca non so non sono sicura perché non ho una vacca idea memoria perché oggi sono stanca sì appunto vabbè allora se vuoi te la faccio io ce l'hai ce l'hai tu per fortuna un elastico perché io proprio non so ce le ho anche io gli elastici ma non mi ricordo dove le ho messi girati aspetta un attimo se vuoi posso prestarti questo elastico io oggi questa sera non sera no cioè io lo indosso come braccialetto in realtà sarebbero elastici per capelli non mi ricordo come si chiamano questi vabbè insomma che sono di stoffa ma perché oggi sono stanca questo qua è proprio arancione zucca di gattinieri delle zucche c'è una lumaca c'entra ma vabbè è un pipistrello del falene dei cecchi dei serpenti dei ragni dei biscotti ma cos'è un biscotto? ah la luna la luna sembrava un biscotto la strega che è guarda la strega la strega sopra la scupa e gattinieri un lupo ha tanti tanti dettagli non ho ben capito lo senso delle lumache però vabbè e poi biscotti ah sì giusto una luna piena sembrava un cookies a me sembra un cookies sentite adesso appena ne trovo uno che si vede bene te lo faccio vedere perché c'è anche questa luna vedi è una mezza luna con un cookies dentro vedi luna piena vabbè e eccolo qua i cookies ma secondo me è un cookies un po' sembra un cookies vabbè io mi metto questo questa sera però mi piace tenerlo come bracciale tu invece puoi metterti questa che è non ce l'ho rosso e nero però questo è grigio e bianco e nero e hai fantasmi ci sono anche dei ragni stanno andando adesso forse anche un bosco delle ragnatelle lo so i biscotti non li vedo vedo anche dei pipistrelli non so se si vedono comunque ci sono principalmente i fantasmi a molto bosco infestato un cimitero forse un cimitero un negozio di biscotti un panificio una pasticceria infestata ma dai cosa mi fai dire allora si è carino molto estetico secondo me se vuoi te lo presto lo puoi indossare come bracciale oppure ti ci leggo i capelli ok come bracciale allora tieni beh ti ho rovinato lo smalto mettendoti il bracciale elastico ah ok mancava solo quello no perché tra poco dobbiamo andare ok va bene chiudi tu tutto che io magari mi dimentico qualcosa non si sa mai grazie per aver visto questo video io come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura emoji random